Cambiarotta è il destino della Banca di Teramo e non oltrepassa più i confini regionali. Questo perché si sta avviando a conclusione il percorso di integrazione della Banca di Teramo di credito cooperativo con la Banca di credito cooperativo di Castiglione, Messerremondo e Pianella. Nei giorni scorsi i consigli di amministrazione delle due banche cooperative hanno approvato le linee essenziali del progetto di fusione per incorporazione. Lascerà così una nuova realtà bancaria solida e radicata nel territorio composta da oltre 7.300 soci e da ben 21 filiali distribuite nei territori provinciali di Teramo e Pescara. Io credo che non si perderà un altro pezzo perché il cambiamento oggi nell'economia, nella finanza, nelle banche è inevitabile. Bisogna adeguare le strutture e anche le dimensioni, anche il modo di essere presenti sul territorio. Quindi io penso che ci sia un qualcosa di traumatico. Me lo auguro, conosco abbastanza i personaggi impegnati in questa operazione. Sono persone di cui ho grande stima, sia dalla Banca di Teramo sia dalla Banca di Castiglione. Quindi mi auguro che questo cambiamento dia dei frutti positivi invece che negativi. Certo, ogni cambiamento determina un qualche disagio, ma io credo che persone indirigenti, persone responsabili, persone che amano il territorio in cui sono chiamati a operare, troveranno il modo di ridurre il disagio e di invece esaltare gli aspetti positivi di una nuova articolazione, di una nuova dimensione, di una presenza diversificata rispetto a ieri.